pizza regina dell'area nord ci troviamo a giugliano in via oasi sacro cuore alla pizzeria carpe diem dove tra poco scopriremo la pizza carla pizza carla in lizza come pizza regina dell'area nord siamo qui a giugliano alla pizzeria carpe diem pasquale tra poco tu ce la prepari qual è la caratteristica di questa pizza c'è il pesto fatto in casa e la sbriciolata di tarallo come particolarità della pizza quali sono gli altri ingredienti fior di latte di aggerola olio extravergine di oliva e la base di pesto come abbiamo detto prima e allora tra poco pasquale ce la prepara e la pizza carla tra qualche minuto sarà pronta e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.